Ciao ragazzi, Game Start, come vedete Metal Gear Solid 5 Ground Zero, versione Playstation 4, il prologo a quello che uscirà il prossimo anno, e facciamo l'unboxing. Innanzitutto vediamo un attimo cosa dice, un giocatore, funzionalità di rete, 4GB di installazione, eh vabbè, HDTV, riproduzione remota supportata con Playstation Vita. Missione esclusiva per Playstation, per chi non lo sa, sia la versione Playstation 4 che Xbox One hanno due cosine differenti, ricrea e ripercorre scene classiche di Metal Gear Solid nella missione Deja Vu, in questo caso la versione Playstation 4. Procediamo all'unboxing, e a breve direi che Leo vi fornisca anche il gameplay, se ce la facciamo, senza far troppi danni, eccolo qua. Libretto di istruzioni diciamo molto semplice, un po' povero, un po' poverino, quasi inesistente, comandi di gioco, i comandi dei veicoli, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, ciò che poi sarà. Scarico oggetti esclusivi per Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain al momento della sua prossima pubblicazione, disponibile esclusivamente per i possessori di Metal Gear Solid Ground Zero. Per maggiori dettagli su questo DLC visita con Amita tatatatatatata. Questo è il DLC. Niente ragazzi, questo direi che sia tutto, state con noi che Leo vi farà il gameplay. Ciao a tutti!